E' tornato in libertà il professor Luigi Bovienzo, docente presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Sapri, coinvolto nell'operazione Plinius per aspetti legati alla sua libera professione di ingegnere e per questo arrestato lo scorso 12 luglio a Scalea, insieme ad altre 37 persone, tra le quali il sindaco e diversi assessori della cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino. Il riesame, infatti, ha accolto la richiesta presentata dai legali del 53enne, revocando il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari. Per il docente, noto nel Golfo di Policastro, come per altri indagati, sono state disposte pene meno afflittive. Oltre che per Luigi Bovienzo, anche i fratelli Pino e Olgarino Manco e Giovanni Oliva, ex comandante dei vigili urbani di Scalea, è stato disposto l'obbligo di firma. Va agli arresti domiciliari, invece, Giuseppe Biondi, 44enne, dipendente comunale, detenuto finora nel carcere di Cosenza. Rigettate, al contrario, le richieste per l'assessore comunale Antonio Stummo, il padre Mario Stummo, capo dell'omonima Cosca, l'affiliato Francesco Saverio Lagreca e il dipendente comunale Antonio Amato. Alvaro Sollasso, invece, ha rinunciato al giudizio del riesame, che il prossimo giovedì, 8 agosto, si pronuncerà sulle posizioni di Maurizio Ciancio, ex vice sindaco di Scalea, con la carica di assessore al momento agli arresti, e il tecnico comunale Vincenzo Bloise. Per tutti, le accuse ipotizzate vanno dall'associazione mafiosa al concorso esterno, dal sequestro di persone alla corruzione, e ancora turbativa d'asta, turbata libertà del procedimento amministrativo e concussione aggravati dal metodo mafioso. Intanto, resta da capire, la posizione di altre persone coinvolte nella maxi-inchiesta che ha svelato legami tra la malavita calabrese, la politica e l'imprenditoria, e il caso quest'ultimo di Santino Pasquale Criscito e Antonino Gatto, imprenditori legati al marchio Desparra e indagati per un episodio di corruzione aggravato dal metodo mafioso, anche loro noti nel Golfo di Policastro, per le alte cariche ricoperte nel centro commerciale di Villammare. Grazie a tutti.